Mi sentite? Sì, eccoci. Beh, sicuramente è un'emozione particolare suonare con Antonella e rivivere questa atmosfera quasi da club, un po' unplugged, chitarra e voce, proprio ridotto, tutto ridotto all'essenza vera del rapporto tra la voce umana e lo strumento che l'accompagna. La chitarra è uno strumento meraviglioso, io voglio cogliere l'occasione per ringraziare Roberto Fabri, ringraziarlo per quello che fa da tanti anni per questo meraviglioso strumento, investendo risorse personali, tanta energia, tanto desiderio di fare conoscere a un pubblico sempre maggiore quelle che sono le potenzialità, le caratteristiche orchestrali di questo strumento. Come vedete, anche utilizzandolo nell'accompagnamento con una voce solista, diciamo che la chitarra può fare, può fare molto anche in solitudine ed è quello che è un po' l'ambizione della mia vita, riuscire a portare la chitarra corda in nylon nei grandi palchi e alle grandi platee. Voglio farvi ascoltare un paio di cose, la prima è una suite di motivi cinematografici, io sono molto appassionato, un grande appassionato di cinema, ho anche scritto della musica per film, per un film dei fratelli Muccino che si aveva, io ricordo, e quindi voglio proporvi questo. Sono dei motivi che non hanno bisogno di presentazione e anzi sarà divertente scoprire di quale melodia si tratta di volta in volta. Film Suite. 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 Film. Film Suite. Film Suite.